Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Un cordiale saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio, alla microfono, Natascia, alla parte tecnica e da tutti noi di Radio Speranza in blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne. Un cambio di passo, maggiore concertazione, una redistribuzione di deleghe e incarichi, stop con scelte clientelari e maggiore attenzione per la sanità falcidiata e depauperata. Sono le richieste di cui è destinatario il presidente della regione Abruzzo, D'Alfonso, che ieri è stato messo in mora dai tre consiglieri e assessori regionali che in queste ultime settimane sono al centro dell'attenzione anche da parte della stampa proprio per le loro richieste. Si tratta di Donato e di Matteo, del Partito Democratico, Andrea Gerosolimo, di Abruzzo Civico e del presidente della Commissione Sanità, Mario Olivieri, anche egli di Abruzzo Civico. Blitz di dirigenti regionali e di un folto contingente di forze dell'ordine nello stabilimento dell'Acqua Santa Croce a Canistro, in provincia dell'Aquila. L'azione ha fatto seguito alla visita ispettiva decisa dalla vicepresidente della giunta regionale Giovanni Lolli, tesa al sequestro di acqua che, secondo la regione, è stata captata senza autorizzazione, cioè dopo che l'enti aveva messo i sigilli. Dirigenti regionali e forze dell'ordine sono dovuti entrare nello stabilimento forzando l'ingresso di fronte al rifiuto del patron Camillo Colella, per il quale l'ente non ha il potere né di entrare in una proprietà privata né di sequestrare l'acqua. Vertice senza i rappresentanti dei comuni di Pescara e Chieti al Ministero dell'Ambiente sul fiume Pescara. All'incontro hanno partecipato anche WWF e Lega Ambiente, che hanno chiesto in ascoltati di allargare gli inviti. Ma il Ministero ha replicato che la discussione sarebbe stata incentrata sul sito di interesse nazionale per la bonifica di bussi, per cui ha competenza lo stesso ente e non sull'area potenzialmente contaminata. Certo è che, replicano però gli ambientalisti, anche a livello locale si è realizzata una lentezza preoccupante e pericolosa. Il Servizio Veterinario della Regione, secondo sempre la WWF, ha prima commissariato lo studio all'Istituto Zoo Profilattico, per poi abbandonare a lungo un intervento incisivo sul caso. La cronaca, giovane arrestato a Pescara per il cosiddetto Knockout Game, il fenomeno criminale importato dall'America, che consiste nello sferrare pugni a tradimento agli sconosciuti. La squadra mobile e la polizia anticrimine della Questura hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un giovane nato in Albania nel 1988, pregiudicato e residente a Pescara. Il giovane è indagato per lesioni gravissime. Parto avventuroso nel bagno di casa per una giovane mamma di San Salvo. Tutto è andato bene grazie all'aiuto di un'infermiera e di un volontario arrivati a bordo di un'ambulanza del 118 della Valtrigno. La neomamma, infatti, ha appena avvertito le doglie e ha chiesto l'intervento di un'ambulanza, non riuscendo ad uscire di casa per arrivare all'ospedale di Vasto e partorendo in bagno con il loro aiuto. La notizia è stata diffusa dal sindaco di San Salvo, Tiziana Magnacca, che ha voluto così ringraziare pubblicamente i volontari della protezione civile Valtrigno. Oggi il presidente del Consiglio, Matteo Renzi, sarà a Pescara, dove il Comune ha previsto una serie di limitazioni alla viabilità. Per sapere quali sono potete collegarvi sulla nostra pagina Facebook, appunto digitando Radio Speranza. Tra gli impegni del Premier, la firma delle opere comprese nel Masterplan Abluzzo e l'apertura del Festival delle Letterature, con intervento per il sì al referendum costituzionale del prossimo 4 dicembre. In contemporanea, con quest'ultimo appuntamento, previsto alle 18, al Teatro Circus, ci sarà la manifestazione per il no al referendum costituzionale, che partirà da Piazza Sacro Cuore. La Confcommercio di Pescara interviene per esprimere la sua contrarietà alla realizzazione della pista ciclabile su Via Muzzi a Pescara, che comporterebbe, secondo Confcommercio, la perdita di circa 20 posti auto su un'arteria di grande rilievo commerciale. Diciamo un no secco, un provvedimento che comporterebbe la perdita di importanti posti auto su un'arteria commerciale importante come Via Muzzi, dice Francesco Danelli, presidente della Confcommercio, a fronte della realizzazione di un percorso ciclabile che potrebbe seguire percorsi alternativi. Crediamo che sulle piste ciclabili si debba procedere con maggiore ponderazione, evitando interventi calati dall'alto senza valutare le conseguenze sul tessuto economico cittadino e senza ascoltare preventivamente i portatori di interesse. Torniamo alla cronaca. Furto nella chiesa di San Giovanni Bosco a Montesilvano, rubati oggetti sacri di valore. I ladri, dopo aver rotto un contenitore di vetro e metallo per l'olio santo, sono fuggiti con sette calici, cinque pissi di due patene, due teche d'argento contenenti reliquie, uno stensorio e una ciotola di metallo. I malviventi hanno agito di notte, sono entrati in chiesa e nella segrestia, dopo aver forzato una porta esterna ed una interna a raccorgersi dell'accaduto. È stato il sacerdote della chiesa che ieri mattina ha allertato il 112. Indagano i carabinieri della compagnia di Montesilvano che stanno visionando le immagini di alcune telecamere di sorveglianza presenti in zona. Tentativo di furto all'interno del comune di Penne. I ladri di notte sono entrati forzando una porta e hanno rovistato negli uffici, ma a parte i danni non hanno preso nulla. Il colpo invece è andato a segno nella sede del CAI, a Tigua, al municipio. In una cassettina che si trovava in uno degli uffici del club alpino, infatti, i ladri hanno trovato 800 euro. Nella struttura sono entrati dopo aver rotto una finestra. Certamente sono in corso da parte dei carabinieri della locale compagnia. Si sono aggiudicati la borsa di studio del Lions Club di Pescara, due studenti neodiplomati dell'Istituto Alberghiero De Cecco. Si tratta di Anna Cileo e Gian Pietro Di Matteo, che si sono particolarmente distinti nell'esame di Stato, meritando la borsa di studio in Tourism and Management. I ragazzi inizieranno il corso di specializzazione nella scuola superiore del Lions Club Maurizio Pantia Cattolica, a partire da venerdì e fino al mese di aprile del 2017. Il corso che frequenteranno prepara i migliori professionisti nel management alberghiero e nel marketing turistico del paese. Oggi è giovedì 10 novembre. La direzione, la redazione, la regia e tutti i collaboratori di Radio Speranza augurano buon compleanno a Don Arturo. Fati bene. Siamo alle previsioni del tempo. Oggi su Pescara e Provincia si prevedono cielo nuvoloso al mattino, sereno nelle ore centrali e nel pomeriggio. È coperto in serata con temperature da 10 a 13 gradi e 20 da deboli a moderati sulla costa e da 9 a 11 gradi e 20 deboli nelle zone interne. Il mare è previsto da quasi calmo a poco mosso. Ed era l'ultima notizia per questa edizione del nostro notiziario. Da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natascia alla parte tecnica e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne. Grazie e risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. a cura della redazione giornalistica. a cura della redazione giornalistica. Grazie.